Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati qui nel nostro mondo di Maintest Ita E siamo di nuovo in compagnia del nostro carissimo amico Marco Autantotto Ciao Marco Che fa sempre il piccione Cosa volevo dire? Ehm, quest'oggi continuiamo il nostro processo per guadagnare il query Come potete vedere nell'inventario ho fatto praticamente tutto quello che ci serviva Perché sono tutte cose che abbiamo già visto Tranne, vabbè, l'Aig Voltage Cable che è Premi di un Voltage Cable circondati dalla plastica Che noi tra l'altro abbiamo in quantità industriale Anzi, andiamo magari a prendere del... No, non ho voglia adesso di andare a prendere la plastica Ah, prima giocavo con la mia ragazza qua su Maintest E... Ehm... Ho notato un piccolo bugettino Che in realtà non è un bug È un problema secondo me di conflitto tra Un mondo in single player e la mod Technic O la Masecon La Masecon direi più che altro Ehm, il fatto è che ho trovato qua Ehm... Che non era stato piantato il Sapling Dopo che l'albero era stato abbattuto E... Ehm... Lo stesso sotto sono andato a vedere la farm di grano E c'erano ben... Dodici... Ehm... Pezzi di terra Su quindici Dove non c'erano i semi Non erano stati piantati i semi Ehm... Al che sono arrivato la soluzione Che secondo me È una questione di sloggare dal mondo Cioè, ogni volta che io esco dal mondo Se per caso è nell'attimo in cui sta piantando Il Sapling o il seme E... Quello che è E io esco Lui non lo pianta Rimane fermo Però quando mi riconnetto No, riparte il segnale di Masecon Per dirgli Ehi, devi piantare il seme E quindi Non succede niente Si potrebbe risolvere Il stesso... Cioè, questo problema Ehm... Ponendo degli altri node detector Dicendo Ehi, se hai dell'aria davanti Manda l'impulso di mettere un Sapling Però sarebbe abbastanza costoso E un po' complesso E per ora non lo faccio Per ora Diciamo che ci riproponiamo Di andare a controllare Ogni tanto Che... Ehm... Siano stati piantati i sapling Che ci siano le piante In giro E che quindi non ci siano problemi di questo tipo Controllare A sbaggare Diciamo Il... Il... Le piantagioni Ecco Detto questo Appunto Torniamo qua Ehm... Le uniche cose Che ci mancano da fare Sono i due Blocchi nuovi Tra virgolette Che sono il composite plate E il carbon plate Il composite plate Ehm... Viene fatto Come in Minecraft Diciamo In industrial craft Di... Di Minecraft Ehm... Di cui tra l'altro Prima parlavamo con Marco E' solo che qua abbiamo Tre stainless steel ingot Tre bronze ingot E tre tin ingot Quindi dobbiamo prendere Tre di bronzo Ancora E tre di tin Che tanto tin Ne abbiamo in dosi tipo industriali No? Ehm... Qua un, due, tre Abbiamo più ferro in realtà Ma perché di tin Abbiamo fatto un edificio intero Di blocchi di tin Tanta ne avevamo Ehm... Così... Non mi prende il coppia Per... Perché non mi prende il coppia? Ah, perché come in Minecraft Mi sbaglio sempre Non è coppia È bronzo E il bronzo Viene fatto con il coppia E con la tin Nespa? Infatti 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 Due di copper E uno di tin Quindi Dobbiamo andare No, dov'è che ho adesso qua? Allora Allora Due di copper E uno di tin Ah, due di copper Ce l'abbiamo Anzi, ne abbiamo tre Devo prendere Semplicemente uno di tin Con le silver Con le silver Questo è tin Rintintin Niente Cioè L'extractor Alla fin fine L'han fatto Anche per i colori Ma se voi Ottenete il colore Nel modo normale Tipo Mettendo un fiore Nell'inventario Vi da quattro unità Di colore Di colorante Se lo mettete Nel extractor Ve ne da due Quindi Uno perché dovrebbe Costruire un macchinario Se è meno efficiente Che non il crafting Normale Non lo so In realtà Real Bad Angel Mi diceva Che vuole Che Nerfino Il crafting Dei colori In Mind test base Ma io non sono Per niente d'accordo Quattro di coal dust Mi danno una grafite Noi abbiamo bisogno Di tre di grafite Se non sbaglio Verrà Sì Quindi Dodici coal dust Quindi abbiamo Quaranta Ok Dodici coal dust Lo dobbiamo mettere Nel compressor Sì Intanto andiamo A nanna No Non ci fa dormire Perché non è notte Io odio Quando è tutto buio Ma non è ancora notte Perché c'è un pizzico Di sole Che si vede Per sbaglio Se chiudi gli occhi Allora Copiamo questo qua E poi Quello è ancora Da comprimere Method compressing Sì Ok Poi vi dico già Che ci sarà Un fracco di lavoro Da fare Che Credo Barra Temo Barra Vi dico già Che farò Off camera Che sarà Il fare Tutti Tutti Geothermal Generator Che sarà Una roba Tipo Tipo Voglio morire Perché Allora Quella è Quello è il metodo Più comodo Perché Ci evita Il fatto di Dover usare Dei metodi complessi In realtà Potrei usare Un Mi pare che ci sia Quello a carbone Di high voltage Generator Battery box Full fired Esatto Tecnicamente Potrei fare uno di questi E alimentarlo In base Allo stesso Carbone Che viene Scavato Diciamo Dal nostro Quarry Solo che ho paura Che non basti Ecco E ho paura Che un generatore Non basti Per un query Però c'è anche Da dire Che Ci è più comodo Provare a fare Un generatore E non Farci 40 Geothermal Generator Più Se facciamo 40 Geothermal Generator Vuol dire Che ci servono 8 Supply Power station E 8 Supply Inverter E un Fottio Di cavi E quindi Il medium Voltage Forse ce l'avevamo Già Infatti Potremmo provare A vedere Quanto produce E quanto Alimenta Questo affare Qua L'high voltage Cable Ce l'ho Gli ice stainless Steel Non è un problema Pneumatic Tube Vediamo un attimo Quanto produce Pneumatic Tube Eccoli qua Quello c'è Il cavo Ce l'abbiamo Stainless Steel Ne abbiamo Ancora No Non ne abbiamo Più Stainless Steel Si facevano Con un Chromium E due Di Carbon Steel Se non erro Andiamo Andiamo Nel Dall'alloy Furnace Non so Quella Ma ultimamente Mi sta Venendo Un sacco Voglia Di Cioccare A un Pacchetto Della FTB Di Minecraft Ma non Credo Che ne Farò Mai Una Serie Anche Perché Voi Tutti La Conoscerete Di Sicuro Meglio Di Me Ah no Tre Stainless Steel Io ne ho Messo Uno In Meno No Tre Carbon Steel Che Cato Sto Dicendo Delle Cavolate Mostruose Marto Tu cosa Combini Invece Di Bello Mentre Io Dico Cavolate Mostruose Sto Mangiando Di Insalata Lollilò Hai Capito Noi a farci Il mazzo E lui E lui Lui si mangia L'insalata Pezzente Lol Tra l'altro Hai parlato Di Ftb In realtà Potremmo fare Qualcosa Tu stai Facendo Già Un pack Delle Ftb Tra l'altro Faccio Pubblicità Chi non Lo sapesse Marco Sta Facendo Un pack Sulla Dairy Wolf 20 Per 1.7.10 Che trovate Sul pacchetto Ftb Quindi Se siete Interessati A Minecraft Ftb Quei pacchetti Sono più Belli Da giocare In Cob Perché Ci si divide Il compito E uno Fa una Mod E uno Fa l'altro Sì ma Non abbiamo Un server Comunque Mi serve Del cop E quello C server Tristissima E E Poi avrò Bisogno Di altri Stainless Stealing In realtà Credo Che avremo Bisogno Di Chromium Ma tanto Se ci facciamo Il query Adesso Non sarà Una cosa Troppo Problematica No Ho preso Un pezzo Di copper In meno Stupido Ma 9 più 3 Non fa 12 Forse Ne ho preso 9 più 2 Ok Facciamo i fine Copper wire Che andiamo Piazziaria Piazziaria Qua Qua ci avanza Anche un pezzo Di ferro In realtà Che andiamo Che andiamo a posare Abbiamo bisogno Di 3 Carbon steel 1 2 3 E Un Chromium Ci rimangono Solo 5 unità Di chromium Non bene Non bene Per niente Speriamo che Tutto questo Ci basti Per alimentare Il nostro Ipotetico Quarry Tra l'altro Se facciamo Il query Sarà comodo Fare un Buon sistema Di ceste Perché Se lo faccio Scavare Per mille Blocchi Come L'ho impostato Ora Come ora Scaverà Un sacco Di blocchi Tra l'altro Un sacco Di cobblestone Una roba Assurda E non ci sono I barrel Qua tra l'altro Sai Marco Cioè in realtà C'è una mod Per i barrel C'è una mod Per i barrel Che si può Aggiungere L'ho guardata È fatta molto bene Guarda che i barrel Sono ridicoli Solo che Il problema Molto grave È che Non funzionano Con Tra l'altro Qua Il bello È che i barrel Sono infiniti Possono contenere Infinite Infiniti Di quell'oggetto Però Il problema Perché costiene 64x64 Un barrel Eh ma ci sono I Come si chiama I Non mi ricordo più C'è un coso Sì però Che tiene tipo 3 milioni Di uniti No 5 milioni Forse No comunque È infinito Solo che l'unico problema È che Non è compatibile Con i cavi Quindi non puoi metterci Della roba dentro In automatico Gliela puoi mettere Solo a mano E non mi serve a niente Una cosa che ci devo Mettere la roba a mano Se devo fare un query Che dici? Dipende Perché Se il query Scava lentamente Puoi farlo anche a mano Sì ma se io sto facendo altro Mica sto sempre là davanti al query No tu fai altro Ti ho detto Si è lento Tempo che fai le altre cose Si è riempita la cessa E la svuota Allora Io dovrei trovare Però un posto adesso Per Piazzare questo query Voglio provare a vedere Se funziona E come funziona Io lo mettere Quasi quasi qua Nel deserto Che è una zona Dove non andiamo Spesso Anzi Dove non andiamo Quasi mai Io lo piazzerei Qua vicino Alla spiaggia Rovino Proprio così La spiaggia Io l'ho messo Vicino a casa Sai perché? Già Hai ragione Devo tenerlo Chunk loadato Se lo metto qua Non è chunk loadato Dovrei prendere Un chunk loader Però un attimo solo Scusami Max Tu hai detto che Vicino c'è la spiaggia Giusto? Più o meno Non è un Mettilo Vicino all'acqua Mettilo In centro all'acqua Insomma Perché Lui scava Ma i buchi Si riempiono D'acqua Si tu dici Per la questione Della lava Non so come funzioni Questo con la lava Credo che si blocchi Se incontra la lava Non la questione Della lava Non questione Della lava Per la questione Del Dello scavare Perché se tu lo metti Tu hai detto Che il mondo È infinito Quindi potresti scavare All'infinito E non creeresti Un buco Perché ogni volta Che si Che il cuore scava Viene riempito Dall'acqua Quindi non avresti Nessun buco Avresti solo Un mare Infinitamente profondo Si lo so Ma non mi piace Non mi piace Come idea In realtà Così non Daneggeresti Il paesaggio Eh ma anche perché Così poi dopo Non No ma dopo Lo ricopro Ma è che dopo Così Non posso controllare A che livello è Perché c'è l'acqua E non vedo un kaiser Là no Là c'è la mia nave Non voglio farla Da quella zona là Eh io la farei Nella zona del deserto là Che non è Particolarmente Esaltante Sì tipo Là in centro Sì andrei A piazzarlo là Per ora Devo però Givearmi un Che tra l'altro Non so neanche Se funzionerà Io sto dicendo Tutto questo Ma Non so neanche se funziona Se riesce ad essere alimentato Da un Generatore Se riesce ad essere alimentato Potrei fare un sorting Per cui tutto il carbone Lo mette Dentro il generatore E E va così Però non so se Il carbone che scava È sufficiente Per alimentarlo Anzi in realtà Ne dubito abbastanza Cioè credo che se io Dovessi sviluppare Un query Non lo farei Autosos Beh Che si può Autosostenere Però c'è anche da dire Che ho una farm Infinita di legno Che è un buon combustibile Se convertito in assi Potrei Male che vada A farmi Una farm Automatica Di legno In cui tutto il legno Va ad alimentare Il query Più il coal Vediamo Allora innanzitutto Io direi che Devo Givearmi Il Give me Tecnic World Anchor Si chiamava Forse No Cosa dice Qua su F10 Mi ha detto qualcosa Ah no Ecco Mi ha detto Che non lo conosce Che cos'è Quello Come si chiamava Ah no Si chiamava Admin Anchor Si chiamava Give Mi Tecnic Sta venendo Notte Anchor No Non era neanche così Andiamo a vedere Magari inquadrandola Mi dice Come si chiama Quel determinato Oggettolo Perché c'è un buco qua Boh World Anchor Però Se io lo cerco qua Non c'è forse No Se cerco Anchor No Non mi ricordo più come si chiami Give me Tecnic Non era Admin Anchor Ci vedete No 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 Scusa Give me Default Cobblestone No Default Wood Dove me lo dà Dove me lo dà Ah no Forse era Give me Tutto attaccato Ah si Era tutto attaccato Allora forse Per quello che non me lo dava Allora Give me Tecnic Admin Perché qua c'è un cloder Te lo puoi solo givare Eccolo Admin anchor Si chiamava Avevo scritto giusto Solo che avevo sbagliato Scrivere Give me Lol Allora io ne metterei uno qua Quindi che Tiene caricata una zona di Dieci Dieci me li tieni Sì Ok Vediamo se Speriamo che sia sufficiente Allora qua ci metterei Il Fuel fired Wattelapesca generator High voltage cable E il query È girato dalla parte giusta Dovrebbe minare da sto lato qua Quindi non dovrebbe Ah però non ha network Devo mettergli la La Come si chiama Quella a fare per La switching station Ecco Devo fare una switching station Se cani da zucchero Sono alte come Una cifra Mezza La statua Dell'hater Consigliataci da Marco 88 Mille Episodi fa Non so se ne ho già una Ma temo di no Infatti Non ne ho Devo creare Non ne ho una Scusami Max Ti è venuta a dare Quell'idea Della statua dell'hater No tu l'avevi detto No tu l'avevi detto No come mi hai detto Che hai ricevuto Il primo Dislike E Avevo intenzione Di fare una statua Io non mi ricordo Di aver avuto St'idea Ah no? Me lo sono inventato io? No Penso di si Io non mi ricordo Così almeno Non mi ricordo Ah boh GG Tra l'altro Non c'è più Chi? Il tuo Hater Personale No Ricevo ogni tanto Dei dislike Non so da chi Non so se è sempre lo stesso Io no Non so Forse si Forse no Anch'io Non me lo ricordo No Ok Delle fibre Mettiamo le fibre qua Abbiamo low voltage transformer Cosa ci manca? Due di coppa Machine casing E tre cavi Tre cavi Ce li ho Un due tre Ehm Aspetta Un machine casing E due coppa Due coppa E il machine casing Si faceva con il Tinto brass Ce n'è ancora uno E Otto di cast iron Due tre Perfetto Dovrei poterlo fare Ok Switching station pronta Vediamo se Funziona No Andiamo a dormire Prima Meglio Stupida porta Buggosa Ok Perfetto Ok Così così Prendiamoci un panino Al volo Già che siamo di qua Tanto c'ho una farm Automatica di pane Oh no Mi sono portato dietro Delle fibra Vabbè Chi se ne sbatte Allora vediamo un attimo Questo mi dice che ha network Sì 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 Proviamo a metterci del legno A bruciare E vediamo Quanta energia ci dà Effettivamente Supply Supply 1200 Demand 0 Come è disabled Ah raggio Io gli metterei 10 di raggio No Non è iniziato Perché Cosa vuol dire un powerhead C'hai l'energia che arriva di qua Ma c'hai l'energia Arriva da qua Ah Demand 1000 Restart Perché non starti 8 Ti dico 8 Che vuol dire un powerhead Ce l'hai là il cavo Eh Domanda 1000 Ah no Domanda 10.000 Io non gli sto dando 1200 Pupazza Pupazza Eh no Non basta per niente Questo Non basta per niente Ne ho bisogno di 10 Di questi Eh No belli Stra fail Quindi Stra fail Ci produce davvero Troppa poca energia Quello Ci produce Troppa poca energia Troppa poca Troppa poca E Si può Potrebbe in realtà sistemare Mettendo una batteria di mezzo Ma andrebbe tutto a scatti Quindi No Io direi che per questo episodio Può essere tutto Noi ci vediamo con il prossimo episodio La prossima settimana Vi invito a lasciare un mi piace A commentare A iscrivervi Se per caso non l'aveste già fatto Eh Il commento Ditemi effettivamente Cosa ne pensate Cosa vi piacerebbe vedere Nei prossimi episodi Perché qua stiamo finendo Tutto il craftabile Delle varie mod Ho aggiunto anche Altre mod Cose Però Boh Ehm E niente Ciao a tutti ragazzi Buon pomeriggio Buon mattina Buon Notte Notte Ciao Saluti anche tu Marco Ciao Ciao Ciao